Quali tecnologie sono state applicate a questo token? Certo, la nostra soluzione dispone di una telecamera posizionata in questo punto, una telecamera fornita da Omron. Questa telecamera riesce a riconoscere chi sta di fronte allo schermo. Quindi la telecamera non va a filmare, ma va semplicemente a capire il sesso, l'età e lo stato d'anno delle persone che sono di fronte allo schermo. Sulla base di quello che riceve dalla telecamera, il software può inviare contenuti differenti allo schermo. Il software è in grado di fornire immagini fisse, animazioni, contenuti ad esempio RSS da internet, contenuti da database, e può mostrare contenuti su un singolo display o su una moltitudine di display, su un singolo schermo o su gruppi di schermi. Quindi è una soluzione che integra la telecamera e il riconoscimento all'azione di marketing per dare il giusto messaggio alla persona nostra.